Salve, io sono Francesca Maiella e nel film Il Muro del Silenzio interpreto Perla, Perla che è la protagonista. Perla è una donna che ha un compagno che le usa violenza e che finalmente riesce a trovare il coraggio per denunciare le violenze subite e rompere appunto il muro del silenzio. È un ruolo molto delicato, il mio, così come è delicato l'argomento trattato in questo film, che è un prodotto destinato proprio a sensibilizzare i giovani di oggi al problema della violenza di genere, alla violenza sulle donne eccetera. Siamo entrati in punta di piedi nell'ambito di questo discorso proprio per avvicinare le scuole, gli studenti ad un tema così sentito. Per la prima volta forse in questo film verrà trattato anche l'argomento aggressore che in genere riveste un ruolo isolato che è quello della persona che fa del male e che bisogna invece cercare di mettere sulla retta via attraverso quello che è un percorso di riabilitazione sociale al fine di evitare che queste sfuriate, queste violenze abbiano una fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.